Ok, vai Presento la mia collaboratrice, la nostra collaboratrice da oggi Mister Anna, che è giocatrice di Calciacinque che vuole iniziare questa grande avventura con i bambini e quindi gli diamo un buon lavoro e con grandi risultati Anna si saprà restringere in mezzo a noi Siamo lieti di avere una mister del gentil sesso Era un mio obiettivo Esatto, bravo il nostro coordinatore dello staff tecnico il nostro mister Gabriele Di Felice e buon lavoro a tutti e due Grazie, grazie, grazie Presidente